Noi siamo le quattro! Tarta! Rughe! Ninja! Se non sarà questa la locandina, qualcuno verrà licenziato. Ciao a tutti, sono Shane. E lui è il mio nuovo fratellino. Sono informati su chi sono. A me il potere! Lascia che ti presenti alcune mie amiche. Siamo due belle pomodorine. A presto, belli! Oh, cavolo. Arce? È la scuola media. È stato magnifico! Lei chi è? È Willy Wonka. L'hai sentito? Sentito cosa? È come il tipo a un minuscolo, un minuscolo motore. Oh, Chloe, fai le fusa! Sei tu! Cosa? Viene da me? Chi potrà sventare questa continua minaccia? Ciao, mi chiamo Oscar. Ora penserete di conoscermi, ma di come io sia non avete idea. Ma guarda, non è carino. Per degli affari importanti. E quali sarebbero questi affari? Io non lo so, mi ha detto Spanky di dire così. Vero, Spank? Purtroppo per voi c'è un gheppardo oggi nella corsia 2. Ok, ai vostri posti! Arriva! Aspetta! Spinnarelli? Sì! Scegli un colore, uno qualsiasi. Viola! Ottima scelta. Oh, ciao! Ma chi è questa bella cagnolina? Vuoi una grattatina sul pancino? La vuoi, la vuoi, la vuoi? Sai, è il mio cane guida. Andiamo, Goldie. Se no, faremo tardi al lavoro. Non posso credere che Raquel mi abbia volutamente strappato il vestito. Sta tranquilla. Adesso è come nuovo. Ma come avete fatto? Guarda! Sta arrivando Ken! Che sorpresa! Una scimietta che ama giocare a Bubu 7T. Sì! Bravissima, René. Grande, Teresa. Grazie a tutti!